Per questo parlo Antonio Abba e poi Donato Cribbio, Antonio Abba per gli elementi di l'occupante. Io sono una persona che ha 60 anni e che per fortuna ha lavorato in modo continuo per tantissimi anni e poi la mia azienda che poi era la Nokia Sivers quindi non una zanzina ha pensato bene che mentre comprava l'Alcatel quindi un'altra azienda piena di soldi ha pensato bene di licenziare nonostante che già nonostante che già avesse fatto una riduzione a fior di quattrini incendiando l'esoda, l'uscita creando anche esodati però da 2009, da 2007, alle 2014 eravamo il 500, da 2009 al 500. Nonostante questo ho voluto licenziare altre 110 persone in modo appunto fluento e io ero una di queste persone. Faccio questa storia solo perché non è mia personale. Ho fatto causa, ho vinto, proprio di quello che diceva adesso il Montorio, ho vinto il reintegro, l'azienda non mi aveva integrato davanti a una sentenza, mi ha rilicenziato con un licenziamento questa volta individuale e nonostante che io abbia l'articolo 18, così dicono che chi è stato assunto prima ce l'ha, i giudici di Milano per la stessa motivazione, cioè riorganizzazione, che non vuol dire niente, non è una multinazionale, basta dire che mi sto riorganizzando, praticamente mi hanno licenziato nuovamente e ho perso la causa. Ho perso la causa. Cioè in questo momento i giudici non ti riconoscono nemmeno l'indemnizzo economico, perché poi la Fornero ha introdotto questa cosa gravissima, perché per un'azienda ti dà i soldi, hai perso il lavoratore, perché il lavoratore ha perso il lavoro, l'azienda con quei soldi, dopo un anno, ha già ammortizzato quel costo, quindi l'azienda vince. Quando ti dicono, come dice la Fornero, indemnizziamo, e ha maggior azione come dice la Giovatte, che dice la rettino solo di indemnizzo, praticamente chi perde erano quelle famose cautele che non era stato un caso che si davano delle cautele per i lavoratori, perché non erano sullo stesso piano, non erano con la stessa porta l'imprenditore e il lavoratore. Quindi l'articolo 18 serviva a controbilanciare questa cosa. E invece purtroppo adesso l'azienda fa quello che vuole e lo capiamo delle cose. Allora, arriviamo invece al lungo dei disoccupati, velocissimamente. Diciamo, noi abbiamo una serie di richieste altissime. Una che può sembrare strana è per esempio l'adopzione donna. Noi diciamo, ma se uno è disoccupato, magari non ha neanche 57, ma ne ha 60 e ha 35 anni. Perché non può usufruire se ci fosse l'adopzione donna, anche se è uomo? Perché il problema è proprio lì, di chi è rimasto senza lavoro e senza versione. Cioè chi è in questo uguale, chi è in questa situazione, ma non ha 40 anni, stiamo parlando di gente comunque oltre 55 anni. Cosa volete che faccia questa gente? Ha diritto a una sua dignità? Ma so per certo che abbiamo alcuni nostri iscritti che sono tornati a casa con i genitori anziani, 80 anni, perché hanno la fortuna di averli. Sono tornati alla cameretta, ma non hanno una lira, devono chiedere al papà se gli dà la ricarica di 5 euro. Ma questa è una dignità. Una Repubblica fondata sul lavoro, questa è la dignità che si dà da la gente che magari ha lavorato 35 anni, 40 anni, non può andare in pensione e quello che può fare è tornare a casa con i genitori. Chi ce l'ha? Chi ce l'ha? Se no, ovviamente ci ti va a mangiare regolarmente alle mezze, diciamo, pubbliche e gratuite, ma alle volte c'è qualcuno che non ha nemmeno dove andare a dormire. Quindi, prima di tutto dignità ai lavoratori, quindi l'opzione dorme. Poi chiediamo, per esempio, un'uscita anticipata. E di quanto hanno fatto? C'è il famoso 41, ma deve anche essere precoce. Quindi deve essere precoce, 41 anni e un disoccupato. Però uno può essere magari non precoce, ma avere 40 anni. Cioè mi sembra che, ho capito che ci sono dei costi da gestire, però mi sembra che quando uno ha 60 anni, ha lavorato 40 anni, quindi una famosa quota 100, potrebbe essere una cosa assolutamente realizzabile. Perché? Posterà qualcosa, ma ci sono fiori di soldi che vengono spese, appunto per 20 euro, per altre situazioni, e secondo me è inutile che tu crei chissà quali situazioni per una persona che ha già lavorato da 35 a 40 anni, 60 anni, cosa vuoi fare? Cioè dovrai comunque andarvi a dare dei soldi, dovrai comunque il comune, andrà dal comune, dovrà chiedere le istituzioni, queste persone, o perché non possono pagare il mutuo, non possono pagare l'affitto, andranno comunque a chiedere, quindi alla fine, cioè non è vero, il governo magari non destina nessuno da dire, ma poi alla fine la società deve pagare per queste persone, se no se si ritrova una rivoluzione, quindi alla fine si va a chiedere qualcosa che in fondo non ha un costo, poi come spiegava bene l'opzione donna, se tu gli fai il calcolo contributivo, si ripaga ampiamente da sola, cioè sono pensioni guadagnate con 35 anni di contributi che vengono pagate il 30% meno di quello che ha maturato, quindi voglio dire, anche lì la prenderai qualche anno prima, ma prendi una pensione ridotta, quindi questi conti credo che qualcuno sia in grado di farli e quindi questi costi non sono esagerati. Poi chiediamo anche nell'ipotesi che queste volontà di accorciare appunto l'accesso alla pensione per chi è disoccupato, magari da anni e non è giovane, per esempio poter pagare dei contributi volontari, ma con un forte sconto, perché nel mio caso quando avevo la fortuna di avere un buon lavoro, guadagniamo 2.000 euro, devo pagare 16.500 euro l'anno, l'anno, a me ne mancano 4, io ho finito anche la Nasti, l'ho finita a dicembre, mi mancano ancora 4 anni perché dovrò lavorare, 43 anni rotti perché mi becco di due adegamenti, i cinque mesi e i tre mesi del 2021 e quindi io voglio dire, devo pagare 4 anni, 70.000 euro, ho preso la liquidazione, ma la liquidazione veniva tassata, invece lì se questi soldi li vuole metti e vorrei quelli di quando lavoravo. Onestamente mi sembra che c'è qualcosa che non guarda. E a fronte anche di questo discorso della contribuzione, appunto noi chiediamo una contribuzione ridotta, se proprio volete obbligarci di andare in pensione dopo, ma ripeto, secondo me la soluzione ideale sarebbe valutare, come c'è una proposta da Miano, credo che sarà un buco nell'acqua, perché anche opzione donna i soldi sono avanzati, perché le donne va bene che hanno necessità di andare in pensione, ma alcune non sono mate, avendo un lavoro, hanno stretto i denti e sono andate avanti, quindi non sono stati poi così tanti. Quindi quando c'è una penalizzazione, il lavoratore ci pensa tre volte, certo quello disoccupato non ci pensa neanche mezzavolta, perché se ne è senza lavoro, se ne è senza pensione, è chiaro che magari sarà obbligato a perdere molti di quei soldi che comunque ha versato, e comunque ha versato. Va bene. Poi che chiedevamo delle cose che forse sono magari meno importanti, ma siccome non hanno avuto molto successo, pensavamo fosse giusto diciamo abbinarle. C'erano dei contributi per chi usciva prima dal lavoro, in modo part time, che praticamente le ditte o non hanno voluto o i lavoratori non hanno voluto. Con una piccola diciamo deputazione potrei andare in pensione, in una mezza pensione. Con noi chiedevamo di abbinare questa cosa all'ingresso part time, mentre c'era uscita soft part time, allo stesso tempo fare un ingresso part time combinato proprio perché disoccupato. In modo che ci sia un discorso di trovare in modo che l'azienda, se vuole usufruire di queste, diciamo, di queste potenziali in modo insomma contribuzioni che comunque lo Stato darebbe, però vorrebbe dire riuscire a far lavorare qualcuno, mentre quell'altro comincia a uscire dal mondo del lavoro. Direi che non vorrei aggiungere altro, poi farò un altro intervento, ma non monopolizzarlo perché ho invitato anche i caregivers, che sarebbero chi accudisce il familiare disabile. Loro non si può divenire perché una è da Toscana e l'altro era da Bergamo. Mi hanno mandato due righe che io poi riferirò, ma qui faccio parlare qualcun altro e poi faccio un intervento per i che vive. Famigliari che anche loro non sono pochi perché molti di noi penso che abbiano, se non un figlio come nel mio caso, perché ho sul bagnato un figlio disabile dalla nascita, c'è anche chi ha la mamma che poi diventa disabile e quindi queste situazioni le vivono molte famiglie italiane e che fanno questo mestiere così meritorio gratuitamente e poi vi spiegano qualche dettaglio di strutture della legge che hanno fatto sulle strutture. Ah, ecco, l'ultima cosa, e questa vale per tutte le categorie di chi ha parlato oggi, ma per tutte queste categorie che hanno delle difficoltà, perché hanno perso il lavoro, perché hanno già lavorato 41 anni, perché è disoccupato di pagarsi dei contributi, ma l'adeguamento dell'aspettativa di vita, ma è assurdo. Cioè, se uno già deve pagarsi 4 anni e non sa come fare, uno accetta che gli ricordino la pensione, ma tu mi aggiungi 5 mesi e poi nel 2021 altri 3 mesi, ma mi sposto in traguardo, ma riconosci che ho delle difficoltà tutte queste categorie, dico tutte, e non quelle gravose, perché hanno fatto, si sono inventati il lavoro gravoso. Ho capito che non sarà gravoso, ma se sono disoccupato, tu mi aggiungi 5 mesi e poi altri 3 diventano 8. Se sono disoccupato, già non ho i soldi per pagare i contributi, mi devo pagare 8 mesi in più, che nel mio caso sono 12 di lei in più. E dove lo prendo? Se da oggi io non ho più stipendio, non ho più niente. Quindi, per l'aspettativa di vita, più o meno l'avete detto tutti, ma mi sembra che tutte le categorie che hanno parlato oggi, per tutte queste categorie, indipendentemente dal lavoro gravoso, credo che non ha senso. L'opzione è donna, se la donna deve andare via a 35 anni, è inutile che gli fai 35 e 8 mesi, perché a cosa serve? Quella persona per i 14 mesi, come dite? Scusate. Prevento Leonardo Cribio, per il giorno del lavoro. Grazie, buonasera a tutti i presenti. Io sono Leonardo Cribio del Comitato di lavoro Milano, non mi dungherò sui aspetti tecnici perché gli interventi che mi hanno preceduto li hanno elencati, secondo me, anche molto bene. Andrò a raccontare da punto di vista politico su cosa vede la nostra azione politica. Noi, come Comitato di lavoro Milano, siamo nati diciamo perché si è creato un vuoto a sinistra che ha applicato il suo ruolo progressista, se non rivoluzionario, di garante degli interessi della classe lavoratrice. Quindi è un comitato che cerca di resistere e di sensibilizzare, per quello che possiamo fare da altre nostre risorse esibere, un po' di sensibilizzazione e di compattare appunto i lavoratori disoccupati in difficoltà dei nostri quartieri. Siamo nati da poco, però siamo nati sull'onda di un lavoro pregresso che ci ha visti partecipi a sostenere quindi lotte dei lavoratori come ad esempio quella della Marcegaglia o anche a svolgere importanti e partecipate iniziative sul territorio come ai tempi della promulgazione dell'Eggio Parti. Abbiamo deciso di scontare questo comitato perché pensiamo che sia utile innanzitutto dare una risposta ai lavoratori dei nostri quartieri e oltre alle belle parole, alle belle assemblee, non siamo rimasti con le mani in tasca ma abbiamo anche creato uno sportello lavoro che si chiama sportello lavoro cintilla con cui negli ultimi due anni abbiamo dato un supporto a oltre un centinaio di lavoratori in difficoltà, sia per le piccole cose come magari la compilazione di curriculum sia per cause che ovviamente non abbiamo gestito noi in prima persona ma abbiamo indirizzato verso eventualmente eventualmente scusate mi forza sostituiamo qua maestro e vediamo qui ok eventualmente verso avvocati di lavoro e così via noi ci battiamo perché vengono pulite le contro riforme che si sono susseguite negli ultimi quasi 30 anni ormai 25 anni tutti attuale da governo sia di centrodestra che di centrosinistra ci siamo riuniti per dire no a chi voleva una divisione generazionale come l'ex presidente del Consiglio Renzi ha cercato di fare quanto propagandava Joe Bacht che di fatto era una gran presa per il culo non passatevi il termine perché dopo che tu approvi la legge Fornero se uno va in pensione sempre più tardi la colpa non è di chi lavora e ti è costretto a lavorare fino all'eternità a gol per chi promulga queste leggi senza aver mai lavorato un giorno in vita sua quindi siamo contro questa propaganda di fatto di regime che vuole mettere, vuole far scontrare la classe lavoratrice di ogni con gli altri anziché dare la colpa che ha creato la crisi che sono fondamentalmente un sistema imprenditoriale un sistema finanziario che sta mandando verso il collasso il paese quindi non vabbè, non vado a fare da lunga io, noi ci battiamo quindi per la posizione del lavoro precario per salari dignitosi e godimento della pensione e per investimenti per un piano nazionale del lavoro per questo pensiamo che siano le priorità che qualsiasi forza politica che si presenti alle elezioni dell'affrontare nel proprio programma elettorale quindi le domande che vogliamo è questa ai candidati che poi vorranno rispondere la prima è se siete per la punizione della legge fornire del Giovan e nel caso come pensate di trovare le risorse la seconda domanda riguarda invece il paradigma se siete disposti a trovare il paradigma in cui vengono pensate le politiche quindi che a posta di mettere al centro gli interessi appunto i periodi finanziari si mette al centro la classe lavoratrice di questo paese quindi se siete disposti a rompere con i trattati europei quindi con l'Unione Europea e con l'EUA e la terza domanda riguarda un futuro che si sta sempre più avvicinando non so se avete mai sentito parlare dell'economia 4.0 l'economia 4.0 in pratica prevede il rimpiazzamento della classe la forza lavoro per appunto rimpiazzarla con la robotica secondo gli studi britannici verranno tagliati circa 25-30% di posti di lavoro quindi come pensate di affrontare questi cambiamenti questa mutazione industriale che verrà nei prossimi anni questo è quanto, grazie grazie allora intanto che a parte vuole fare un'intervento ancora per il cariciero se no io chiedo chi si prenota a fare altre domande venga qua al tavolo altrimenti faccio io una sintesi veloce delle domande che abbiamo posto ai candidati perché ne ha arrivato anche un altro Senna Gianmarco e quindi purtroppo alcuni di loro un paio non hanno già segnalato che hanno problemi se ne hanno già dato via tra le sei e mezza magari daremo loro la precedenza le domande che abbiamo posto e anche gli altri via me anche le che ci hanno contattati e che abbiamo con loro inviato dei documenti e appunto abrogazione regressione azzeramento o modifica della legge Fornero come blocco o modifica dell'aspettativa di vita non salvaguardia per gli esultati esclusi definitiva il PD ha fatto col governo attuale l'ottava salvaguardia ma nei suoi programmi non ha presente una non salvaguardia definitiva per gli esultati esclusi noi abbiamo visto che c'erano sempre stati dei numeri 390.000 soldati inventati da Nori sono diventati 145.000 salvati con 8 salvaguardie che ha sempre voluto fare di anno in anno tranne l'ultima che è stata di due anni per alcune tipologie noi invece dicevamo che bisognava fare un censimento e chi ha accordo i presidenti della legge Fornero di esodo o di mobilità o chi è stato licenziato prima della legge Fornero doveva essere salvato con le norme precedenti della legge Fornero questo l'avrebbe dovuto prevedere l'esilatore non l'ha fatto avrebbe dovuto sanare con un censimento queste situazioni a noi è riduta che ci sono circa 6.000 soldati esclusi pochi e quindi ci vogliono neppure 300 milioni in 6 anni quello che ci curva è che ci sono stati 800 milioni di risparmi dall'ottava salvaguardia e li hanno destinati al fondo per l'occupazione e la formazione e invece di usarlo per fare la non salvaguardia abbiamo chiesto di fare il cumulo dei contributi anche per gli esodati per l'occupazione donna perché voi sapete che le leggi che ci sono succedute nel dal 92 legge Amato 95 legge Tini legge Maroni 2004 legge Damiano 2007 tutte queste leggi hanno in realtà creato condizioni molto diversificate invece bisognerebbe riassumere in un testo unico tutte le leggi tanto per farvi capire il legislatore è inventato chi prendeva 40 anni i contributi si contarono anche i periodi di malattia di disoccupazione di servizio meditale di maternità mentre per i 35 anni non si contano questi periodi a noi sembra un'enormità perché appunto guarda caso chi punta poi se riesce ai 35 anni tanto per dare un numero sono il 20% delle donne perché le donne hanno sempre quasi sempre meno di 35 anni 27 29 30 31 22 25 anni di contributi allora bisogna trovare soluzioni anche per l'80% delle donne che non ha questi contributi soprattutto bisogna dare delle priorità ovviamente le priorità sono per i disoccupati per i licenziati per gli esordati perché un lavoro non ce l'ha noi pensiamo poi è giusto che ci sia anche per chi ha problemi di carico di famiglia di disabili di cariniere curano anziani o figli disabili è giusto poi pensare anche chi vuole uscire dal mondo del lavoro si dica se si vuole far uscire con il contributivo o con l'attuale sistema che è un sistema misto o per chi aveva prima delle 95 che ormai stanno traminando dopo i 18 anni col contributivo il contributivo era solidale perché chi aveva le fasce alte venivano battuti con dei coefficienti chi invece non è nel sistema contributivo quindi il sistema contributivo dovrebbe essere anche corretto dovrebbe essere per aiutare per farmi capire chi ha pensioni da fare un'altra cosa che è importante dire la legge armata ha costituito i 20 anni di contributi minimi per tutti però ha dato 3 per le 15 anni cioè chi aveva 15 anni di contributi o 19 anni e 11 mesi e 3 settimane purtroppo chi ha di queste donne contributi da solo lavoro non è mai stato inserito nelle salvaguardie e purtroppo sono tante soprattutto le donne che sono in questa condizione vorremmo anche sapere cosa dite di quota 41 di quota 100 che vuol dire somma di età anagrafica più più contributi per esempio 60 più 40 ma potrebbe anche essere 58 più 42 59 più 41 e via di questo passo ora cumulo dei contributi l'ho già detto è importante perché per l'APE o per la quota 41 è stato previsto ma è stato escluso nelle salvaguardie è stato escluso per l'opposizione donna ed è una cosa che ci sembra veramente vergognosa cosa per i giovani l'ha detto Pribbio cosa si vuole fare si chiede un piano per gli investimenti un piano di politiche che dia ha anche garanzie ai giovani con pensioni di garanzia o con qualche cosa con contributi di garanzia per i giovani che non hanno carriere discontinue e che soprattutto cominciano a 25 30 anni a cominciare a lavorare quindi vorremmo adesso sentire dopo di che se non c'è nessuno che si alza dopo un Torino a chiedermi di parlare io comincio a far parlare i due candidati che mi hanno chiesto di parlare per prima però vorrei che i candidati venivano qua al tavolo perché li vorremmo sentire e fare anche una fotografia con tutti loro grazie 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 grazie